Mamma mia ragazzi quando si affonda il piede fa paura Ragazzi non vena un cazzo E il ragazzo è uscito fuori Oh me ne stavo andando E' un'esperienza da fare assolutamente Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale Fammi togliere questa mascherina E oggi esperienza estrema Tutto tutato Andremo a correre con una macchinina E anche con un'altra Poi lo scoprirete nel prossimo video La pista la conosco L'ho studiata un pochettino Ma ho la testa di cazzo Quindi non mi ricordo nulla Andiamo bene Ma ci vediamo in pista E inizieremo a scannare per bene Quindi rimanete connessi La carica simile è molto diversa Da le cariche che fanno in un'attività di giorni La tua carica è designata per la sicurezza Ragazzi si parte Ci ha fatto tutta la spiegazione Non potrò portare la mia GoPro Avrò il video loro che ho dovuto pagare altri 200 AED Quindi 70 euro Ci vediamo in pista Spero sia veramente divertente ed emozionante La spiegazione è stata abbastanza chiara Fortunatamente noi la frizione la sappiamo usare Perché il cambio automatico è poco utilizzato in Italia Ci vediamo in pista Siamo pronti Siamo pronti ragazzi Quale delle due prendiamo? La nera o la russa? No non prendiamo nessuna delle due ragazzi Oh Oh Arriba A presto Sono stragasato, non vedo l'ora, veramente non vedo l'ora Ti rompe i timpani Ok, ragazzi è accesa anche la telecamera, si parte Io la copro non l'ho potuta montare però ho fatto tutta una macagna, ce l'ho in mezzo alle gambe Speriamo non mi dia tanto fastidio, che non la perdo Non ci credo, veramente non ci credo Mamma mia ragazzi, quando si affonda il piede fa paura Fa paura Mamma mia Che capata questo cambio di direzione assurdo Mamma mia E' indescrivibile, troppo potente Mi cago sotto Nooo Sì Sì Ma che vada Nooo Frena, 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 scala Ragazzi non frena un cazzo Non frena un cazzo Io mi aspettavo fossero prestazionali i freni Invece non frena, è molto lenta la frenata Penso sia fatta apposta Non so cosa dobbiamo fare Mamma mia ragazzi, è una figata assurda È una figata assurda Veramente è una figata assurda È una figata Troppo panna ragazzi Voglio andare in pista Voglio andare in pista Voglio andare in pista Non mi interessa Vuole correre? E corriamo bello mio Vai Vai Corriamo Vai Tu sei il pilota Avanti Vai Vai Tu sei il pilota Avanti Vai Come Rettiligno Che grande Vai Canta 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 e ragazzi è uscito fuori e ragazzi è uscito fuori e ragazzi è uscito fuori Yeah, man! Go! Go, go, go! Go, go, go! Oh, scrammando, rifatando! È il drift! È già il drift! È già il drift! È già il drift! Chiede la lina, ragazzi! Chiede la lina, ragazzi! Chiede la lina, ragazzi! Mamma mia! Mamma mia! Go, go, go! Go, go, go me le stava andando! Me ne stavo andando, ragazzi! Me ne stavo andando, sto esagerando troppo! Mi sto gasando troppo! Calma che non sono un pilota! Calma che non sono un pilota! Mamma mia, ragazzi! Non avete idea! È un'emozione assurda, credetemi! Ma che è già, sono passati 20 minuti! Sì, sono già passati 20 minuti! Ragazzi, sono passati 20 minuti! Non me ne sono proprio reso conto! Talmente che è divertente! Talmente che è divertente! Non me ne sono proprio reso conto! È bellissimo! È bellissimo, ragazzi! È bellissimo! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Bellissimo! 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 Mamma mia! Quando ricominciamo? Avete fatto tipo 87 giri più degli altri tutti e due! Mamma mia! Bellissimo! Ma non era l'istruttore, lui! Eh? Non era l'istruttore! È ammo, stivale da dentro! Tutti gli altri stavano a chilometri! Avete fatto 5-6 giri in più! Fantastica esperienza! Ammo! Very, very, very beautiful! Mamma mia! Ehm! Freeze reaction shock! Spero che si sente solo nel video! Ma ma sei bravissimo! Te lo giuro, eri bravo proprio! Ma devo correre con le macchine! Eh ma, cioè, non vorrei dire, ma sei molto più bravo qui che in pista! Con le ovali! Mamma mia, mo! Mamma mia! No, veramente! Ragazzi, non avete idea, ve lo giuro! È un'esperienza da fare! Assolutamente! Non evitate le supercar per strada! Perché tanto vi fanno i verbali! Qui scannate come i borci! Bello! Prima, seconda, terza! Guarda, hai visto il supercar per il video! Ma ce la faccio! Non mi fermo più! C'è la regalina a palla! No? La regalina a palla! Mamma mia! Ragazzi! Saluti! Ci becchiamo alla prossima esperienza! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah!